Questi fiori sono bellissimi, è vero le azalee, abbiamo anche degli ortaggi, qualche erba aromatica, rosmarino per babietola, questo è finocchio, girasole, sono stupendi, e qui c'è il cavolo rapa, i bambini adorano il cavolo rapa, i bei momenti trascorsi a casa us saranno sempre uno dei ricordi più belli delle nostre vacanze, a est si trova il nostro domani, grazie per la vostra ospitalità nazionalsocialista. Grazie a tutti.